Di corsa verso la pace nel mondo, unendo in un abbraccio virtuale Moschea, Sinagoga e San Pietro. Il messaggio di Vivi Città, manifestazione giunta alla quarantesima edizione. Stefania Cappa. All'alba della nottata in cui volavano missili su mezzo Medio Oriente, penso che un piccolo gesto di testimonianza che tenga insieme i luoghi di culto della città di Roma, la Moschea, la Sinagoga, San Pietro, sia quello che si può fare da civili nel testimoniare e nel rivendicare la possibilità che ci sia pace. Una corsa per i diritti, per la pace e per la legalità. Vivi Città, giunta alla sua quarantesima edizione, è partita da un luogo simbolo di Roma, la Moschea, passando per la Sinagoga, tagliando il traguardo a San Pietro. Anche lo sport purtroppo è stato attraversato da eventi di guerra e lo sta condizionando. Anche una corsa come quella che stiamo correndo noi oggi qui, che ha un valore simbolico, come quella che stanno correndo anche in altre 38 città italiane con Vivi Città, penso che possano essere un messaggio che può dare piccoli contributi di serenità. Accanto alla gara competitiva di 10 chilometri, anche tante camminate e passeggiate di 3 chilometri. Oltre 30.000 i partecipanti dal nord al sud, una grande festa di sport per tutti e per tutte. Accanto alla prova competitiva le passeggiate ludico-motorie e i temi centrali quest'anno, per la pace e per la legalità. A questi temi è dedicata l'edizione 2024, che ha unito centri storici e istituti penitenziari, periferie degradate e parchi urbani.